Segretario, domani un congresso che terrà Wiltec Veneto per parlare del futuro del lavoro. Facciamo un po' il punto della situazione. Qual è la situazione attuale e quali sono gli obiettivi e le prospettive del futuro? Intanto ci tengo a dire che abbiamo scelto, fra Tapolesine, la casa dove è nato Matteotti, sarà il teatro nel quale noi faremo il terzo congresso regionale della Wiltec. Perché il primo messaggio che vogliamo dare in questa zona è molto difficile e che il futuro si può affrontare con idealità e pragmatismo che fu di Matteotti. Matteotti fu un grande idealista ma anche un uomo pragmatico negli anni 20, nel 1920 fu segretario della loro Camera del Lavoro di Ferrara. Quei grandi valori, quei grandi pragmatismo sono quelli con i quali noi vogliamo affrontare i problemi del nostro tempo che sono l'aumento delle disinquaglianze, la necessità di mettere al centro la persona, la necessità di mettere al centro il lavoro, il lavoro fatto di industria 4.0, di sostenibilità ambientale, di transizione energetica. Faremo poi un focus su tutta la situazione dell'economia veneta partendo dai grandi distretti, quello del calzatoriero, quello del concia, quello dell'occhiereria, valgono 35.000 posti di lavoro. Parleremo di artigianato, parleremo di multiutility, parleremo di giovani, sono 66.000 le persone che si sono licenziate nel Veneto nel primo quadrimestre del 2022. Molti di questi sono giovani che stanno andando all'estero, riprendendo la strada dei nostri padri. All'inizio del Novecento e nella seconda metà del Novecento c'è stata una grande emigrazione al Veneto. Non è più quella emigrazione che fu un'emigrazione di quantità, qui rischiamo di perdere la qualità se ne stanno andando i giovani migliori. Noi vogliamo lanciare un messaggio di recupero e di difesa anche di questi giovani, mettendo al centro il lavoro e la qualità del lavoro.